Benvenuti a 10minuticonpegli.com. In questo episodio scopriremo il luogo di sepoltura del professor Edoardo Chiossone a cui è intitolato il Museo d'Arte Orientale in Villetta di Negro a Genova. Incisore italiano, invitato in Giappone nel 1875 dall'Officina Carta e Valori del Ministero delle Finanze, valente tecnico e insignia artista, contribuì allo sviluppo dell'arte della stampa in Giappone e all'amicizia tra i due paesi. Tributo a Edoardo Chiossone in occasione dell'Anno dell'Italia in Giappone 2001-2002. Il Museo d'Arte Orientale in Villetta di Negro rappresenta l'imperituro ricordo del Grande Ligure che visse l'apice della sua carriera artistica e di collezionista nel lontano Giappone. La preziosa collezione lasciata in eredità l'Accademia Ligustica giunse a Genova nel 1899. Racconta ancora oggi il Giappone e l'Oriente attraverso l'arte mantenendo vivo nel contempo il ricordo del professore e del suo operato. Al contrario le spoglie di Edoardo Chiossone non fecero mai ritorno a Genova o nella natia a Renzano. Nel cuore del più importante cimitero di Tokyo, Aoyama, nel campo internazionale, trovano riposo in un'importante tomba dall'aspetto austero i resti del professore Edoardo Chiossone. Il cimitero si manifesta in modo non convenzionale rispetto alle aspettative occidentali. Se le lapidi e le varie opere funerarie da subito denunciano la natura del luogo, il verde e la gioviale frequentazione lascia supporre di trovarsi invece in un grande parco pubblico. Un grazioso viale alberato attraversa da nord a sud la collina, costituendo la dorsale viaria del cimitero. Nel periodo della fioritura è straordinaria la vista panoramica dei ciliegi, che all'imbrunire si accompagna con le scintillanti luci dei grattacieli. Un senso di serenità sembra abbracciare i visitatori e far compagnia a Chiossone e ai tanti che trovano lì riposo. Lungo il viale principale, adorno di ciliegi in fiore, nel piccolo settore riservato agli stranieri, si distingue la tomba a Chiossone. Un basso moretto delimita l'area di sepoltura, che si sviluppa verticalmente per sovrapposizione di elementi lapidei, culminanti nella lapide con iscrizione bilingue. Alla sacra memoria del professore Edoardo Chiossone, nato in Arenzano, Italia, nel 1833, morto in Tokyo l'11 aprile 1898. Grazie alla cortese ed esperta collaborazione del CELSO, Istituto di Studi Orientali di Genova, è stato possibile risalire alla traduzione dell'iscrizione posta sul retro della lapide. Tomba, professore, Chiossone, Edoardo, calendario occidentale, 1833, anno, nato, luogo, Italia, Arenzano, 1898, anno, aprile, 11, giorno, morto, luogo, Giappone, Tokyo. La prima riga è impreziosita dall'uso dello stile piccolo sigillo, mentre le colonne sottostanti, da destra verso sinistra, risultano scritte in stile regolare. Fregi ornamentali raffiguranti gli strumenti del mestiere posti all'interno di corone di fronde completano, in chiave descrittiva, l'estetica dell'opera funeraria. Il tramonto, reclamando la giusta quiete per il luogo, regala curiosi accostamenti estetici, dettati dalle luci delle moderne architetture della metropoli, attraverso le chiome dei ciliegi fioriti dai delicati toni rosa pallido. Grazie per la visione! Grazie per la visione!